Ora vi raccontiamo un viaggio, un viaggio durato 51 giorni, il tour per la sicurezza sul lavoro. Lo facciamo insieme a chi questo viaggio lo ha appena concluso, il presidente della fondazione ANMI, l'associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro, Bruno Galvani. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. 4.000 km in 40 città in 51 giorni. Che viaggio è stato questo viaggio, Galvani? È un viaggio molto emozionante, faticoso indubbiamente, che però ci ha mostrato anche un'Italia che, se da una parte ci piace particolarmente, che è l'Italia del volontariato, della gente impegnata, dei giovani, degli studenti, perché abbiamo incontrato, poi si vedrà, 7.000 studenti. Abbiamo avuto anche però la conferma che vi è anche un'Italia molto complicata, l'Italia degli infortuni sul lavoro, delle materie professionali. Un'Italia che noi vorremmo che cambiasse e soprattutto vorremmo anche che chi ha subito queste ingiustizie, chi ha pagato un prezzo così elevato come la vita, avesse delle risposte concrete e soprattutto che il loro sacrificio servisse a qualcosa. Ripercorriamo insieme le tappe più significative di questo viaggio nel servizio di Antonella Sciocchetti e poi ne parliamo in studio. Abbracciare con cittadini e parenti delle vittime di quel lavoro che fuori dalle leggi previste per la sicurezza e fuori dalle attenzioni personali può essere il nostro peggior nemico. È stata questa la missione del tour di Bruno Calvani, paraplegico dall'età di 17 anni per un gravissimo infortunio e presidente della fondazione ANMIL, associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. Dal 28 aprile al 17 giugno scorso Calvani ha toccato con la sua sedia a rotelle e in tratti non percorribili in camper 40 località italiane scenario di morti bianche o invalidità gravi, malattie professionali o addirittura disastri ambientali. Da nord a sud della penisola un viaggio di oltre 4.000 chilometri. Dall'esposizione all'amianto di Monfalcone, Ravenna e Bologna alle fabbriche di Priolo in provincia di Siracusa. Dal crollo della torre piloti del porto di Genova alle macerie dell'Aquila con particolare attenzione agli studenti universitari deceduti nel 2009 che meriterebbero secondo l'ANMIL lo status di vittime del lavoro. Dalla Lombardia, Veneto e Toscana in testa per il numero di infortuni mortali denunciati nel 2015 a Umbria, Puglia e Lazio dove le malattie professionali denunciate tra il 2014 e il 2015 secondo i dati INAIL sono aumentati tra il 10 e il 15%. Un viaggio che diventerà un docufilm testimoniando sofferenza, memoria, diritto alla sicurezza nella speranza di accorciare le distanze tra istituzioni e mondo del lavoro tra dolore individuale e coscienza collettiva. Galvani, l'abbiamo sentito nel servizio, lei è sulla sedia a rotelle dall'età di 17 anni. Cosa è successo? Ci racconta quel giorno. Sì, credo che il mio possa essere l'esempio di cosa significa purtroppo entrare nel mondo del lavoro senza avere una preparazione. Io da giovane diplomato sono entrato nel mondo del lavoro, sei mesi durante la mia carriera poi ho avuto questo incidente, peraltro il primo giorno che utilizzavo questo attrezzo che è il carrello elevatore, muletto viene definito, dove oggi per poterlo utilizzare è necessario una patente, un patentino. Allora assolutamente negli anni 80 non si parlava di questi temi e ho perso l'uso delle gambe. È stato un momento molto complicato, molto difficile, ma un certo giorno mi sono guardato e ho detto ma può essere che la disabilità fa un uomo? Può essere che una condizione così grave mi possa impedire di poter vivere una vita ancora digna di essere vissuta? E da lì ho ricominciato la mia vita, sono tornato a studiare ma soprattutto ho fatto sì che la mia esperienza personale potesse in qualche modo essere messa a disposizione di chi purtroppo incontro ogni giorno queste problematiche. Qualcosa cambierà, recita il testo di una canzone scritta appositamente per questa iniziativa da un rapper, un rapper italiano, Scuba Libre. Però le notizie che noi leggiamo tutti i giorni sui giornali e i dati che ci tornano indicano che questo qualcosa non cambia. Se la grafica mi aiuta li leggo insieme a lei. Nel 2015 ci sono stati sul lavoro 632.665 infortuni, quindi meno, quasi il 4% rispetto al 2014. Però, c'è un però, quelli mortali sono saliti a 1.172, quindi più 16% rispetto al 2014 e le malattie professionali sono quasi 59.000, sempre più 2,6%. Quindi questo qualcosa non sembra poi cambiare così tanto. Insieme a Franco Bettoni, che è il Presidente di Amni Lollus e al nostro Direttore Generale, Dottor Giovannelli, siamo partiti da queste date. Abbiamo valutato che in un momento in cui il Paese è in crisi, anche lavorativa, è inutile nascondercelo, se vi è un aumento di questo genere, vuol dire che è successo qualcosa. Probabilmente quando indebolisci in qualche modo anche i diritti dei lavoratori, poi le dirette conseguenze possono anche essere l'aumento degli infortuni mortali. Perché è vero che non avviene una lieve diminuzione degli infortuni in generale, perciò bisogna comprendere che nel nostro Paese sono state messe in atto anche delle formule contrattuali che a volte difficilmente fanno sì che l'infortunio venga denunciato come infortunio sul lavoro. Per questo abbiamo deciso di fare questa tour. Perché noi pensavamo che fosse il momento di dare una scossa su un tema molto molto importante. Siamo in chiusura, le faccio un'ultima domanda. Il 17 giugno ha chiuso questo tour a Roma. Qual è stata l'emozione più forte, più grande? Ma intanto abbiamo deciso di chiudere il tour a Roma proprio perché volevamo assolutamente ringraziare i nostri dirigenti che sul territorio si sono impugnati così tanto per far sì che questo tour fosse, come posso dire, un'azione di successo, ma anche i nostri dipendenti. Le emozioni sono state tante, le potrei ricordare due o tre velocemente. Forse la più grande... Una rapidissima. Una rapidissima, Caivano. Noi siamo arrivati a Caivano nel momento in cui questo Paese era agli onori della cronaca per due vicende drammatiche. Lei si ricordi, due bambini buttati, eccetera, eccetera. Noi pensavamo di essere quasi, come posso dire, nell'anticamera dell'inferno. Siamo arrivati lì, ci hanno accolto 250 studenti, ci hanno accolto un corpo docente che aveva lavorato da circa sei mesi sul tema della sicurezza, dimostrando che nel nostro Paese c'è ancora una speranza. Grazie, grazie a Bruno Galvani. Chiudiamo con questa speranza.